Il mio pianeta, Arrakis, è così bello quando il sole è basso. Avvolute sopra la sabbia, si vede la spezia nell'aria. Gli stranieri saccheggiano le nostre terre sotto i nostri occhi. Sono crudeli verso il mio popolo, non so altro di loro. Che ne sarà del nostro mondo? Bono. Ragazzo. Ciao. Duncan, posso confidarmi? Sì, sempre, lo sei. Sogno frequentemente di una ragazza su Arrakis. Non so cosa voglia dire. Sono belli i sogni, ma le cose importanti accadono da svegli. Guarda qui, hai messo muscoli? Dici? No. Siamo casa Atreides. Non c'è appello che non accogliamo. Non c'è fiducia che tradiamo. Sorridi, Gurney. Sto sorridendo. L'imperatore ci chiede di portare la pace su Arrakis. Casa Atreides accetta! Ti conosco. Nella mia mente si risveglia qualcosa. Devi affrontare le tue paure. Vieni con me. Devi essere pronto. Non hai mai incontrato un Arkonen. Non sono umani, sono bruti. Il figlio del duca vede troppe cose. Questo è il mio dune. Uccideli tutti. Oh mio Dio. Fate decollare la forza aerea! Su! Questo è uno sterminio. Stanno eliminando la mia famiglia a uno a uno. Combattiamo come demoni. Padre, e se io non fossi il futuro della casa Atreides? Un grand'uomo non cerca di essere un leader. È chiamato a esserlo. Ma se la tua risposta è no, sarai comunque quello che desideravo tu fossi. Mio figlio. Se accadesse qualcosa, proteggerai Paul? Con la mia vita. No! Solo uniti abbiamo una speranza. Ci siamo. Oh, che no, chi va?